Siamo per niente di tutti. Non è altra cosa, ma è entrata a casa. Non è altra cosa, non è altra cosa. È in quel virgine, è in quel virgine, non è tta, non è la città, non è la città, non è la città, non è il Snapeva, è in quel virgine. Non è l'importanza stampante fa questo. Possiamo guardarvi anche quattro, ci stiamo a fare il camino. Ci stiamo a fare la Idea Solutions, ci stiamo a dare ilendini, vogliamo di vittucare, 편zico! Rendito!